Sono passati più di dieci anni dall'ultima volta, per questo motivo l'attesa era davvero tanta per i 230 alunni che assieme ai loro insegnanti sono tornati, giovedì 1 giugno, a dar vita alla festa degli alberi, cioè a mettere a dimora delle piante di olivo proprio come era accaduto poco distante all'inizio degli anni 2000. Grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e alla collaborazione dei custodi forestali e i volontari dei Nuvola, ognuna delle 11 classi della scuola primaria di Vigne ha potuto interrare un olivo ciascuna, con tanto di targhetta che ricordi questo momento. Il luogo scelto è stato il Dosso di Romarzollo, che subì la forte gelata di qualche anno fa. La dodicesima pianta è stata dedicata a tutti gli insegnanti che andranno in pensione in questi anni. La passeggiata, rigorosamente a piedi, è proseguita verso l'Agel, dove sul prato messo a disposizione da Leonardo Rosà, i Nuvola hanno offerto a tutti i presenti un piatto di pasta. L'appuntamento, visto il grande successo riscosso tra tutti i bambini e gli insegnanti, è stato rinnovato anche per il prossimo anno.